Abbiamo creato delle occasioni, Eusebio è rientrato, ma anche se non sta bene, è un giocatore ancora in fase di recupero. Devo dire che abbiamo incontrato una squadra che si è chiusa bene e abbiamo avuto delle difficoltà, ma abbiamo fatto dei tiri in porta, non siamo riusciti, anche all'ultimo abbiamo schierato tanti trequartisti per cercare ancora più profondità, l'abbiamo trovata, peccato, però io non mi sento assolutamente di dire alla squadra, ha messo il cuore, non ce l'abbiamo fatta, io spero che, mi dispiace, che proprio davanti al nostro pubblico non riusciamo a portare a casa i tre punti. È un Palermo che si è difeso tantissimo e noi non siamo stati fortunati, ma al di là di questo penso che nessuno possa rimproverare l'impegno totalmente di tutta la squadra, abbiamo spinto, abbiamo creato e noi ci siamo riusciti. È un peccato perché questi ragazzi meritano veramente qualcosa di importante. Io sono convinto che al ristorante quando si va si paga sempre dopo, non prima. Tantissimo rammare, schemi? Una squadra che non hanno mai tirato in porta a loro. Noi abbiamo creato, loro si sono difesi bene perché allungavano soltanto la squadra in fase di ripartenza, se no si sono sempre difesi. Io credo che è stata una partita maschera, una partita di una squadra, non dimentichiamo, costruita per vincere il campionato.